Il calcio di rigore è un terno all'otto, purtroppo quando si arriva a quel punto c'è una delle due che purtroppo deve fare meno errori, però io sono non contento, strafelice della prestazione dei ragazzi perché ho visto una squadra che ha cercato di giocare, una squadra che ha creato, ha creato tanto come nelle ultime amichevoli, ma io sto vedendo una squadra che ha dei margini di miglioramento molto molto ampi, quindi sono molto contento e credo che sia la strada giusta per portare a casa i nostri obiettivi. Tra l'altro Forfè di Donna Roma di fatto nel riscaldamento, al netto di questo piccolo neo i ragazzi hanno dimostrato una grande tenuta, anche quelli che avevano avuto qualche piccolo problema in preparazione, hanno fatto 90 minuti da leone. Sì, ma io ho 25 titolari, per me non ho 11 titolari, ho 25 titolari, quindi oggi all'occorrenza nel riscaldamento ho avuto un problemino Donna Roma, Mirto l'aria è riuscito a non far sentire la mancanza di Donna Roma per questo, però io ripeto, io cerco di guardare sempre il gruppo e il gruppo oggi mi ha dato una risposta molto molto positiva e sono contento. Hai sempre detto, guardiamo una partita alla volta, finita la sfida con il Città di Varese e già testa alla trasferta di Bra, da dove intendi ripartire? Sì, io personalmente ho già la testa a Bra, i ragazzi anche appena sono entrato negli spogliatoi gli ho detto di alzare la testa perché hanno fatto una grande partita e adesso ci aspetta un'altra partita difficile perché sarà un cammino lungo e faticoso, ma se siamo questi noi romperemo le scatole a tutti, questo è il nostro obiettivo, sono contento di tutti ho visto molti segnali positivi.